ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e come state vedendo di fondo questo è un nuovo contest di fifa 16 ragazzi un nuovo contest di fifa 16 in cui metterò in palio ben 100.000 crediti come nei contest precedenti ragazzi tra cui andranno 50.000 crediti al primo classificato 30.000 crediti al secondo classificato e 20.000 crediti al terzo classificato ragazzi allora per partecipare a questo contest non dovete far altro che condividere essere presenti sul canale fatemi sentire che ci siete e il più attivo di voi vincerà ragazzi come sapete tutti i miei contest si vincono solamente in questa maniera quindi mi sono anche stufato di ripetere l'oreca perché comunque chi partecipa ai miei contest lo sa quindi ragazzi allora parliamo dei termini ragazzi allora parliamo dei termini per partecipare a questo contest dovete essere attivi durante questa settimana questa è la settimana in cui dovete essere più attivi ragazzi per poter essere selezionati e vincere magari uno dei tre premi ragazzi quindi dal 20 giugno al 27 giugno ragazzi siate più attivi possibile maniera tale che possiate vincere questo contest di fifa 16 ragazzi i requisiti passeranno anche nel resto del video però ve li voglio ricordare ragazzi dovete avere la lista delle condivisioni o meglio dei video piaciuti aperta nel senso che io la possa vedere dovete essere iscritti al canale quindi dovete comunque sia avere le iscrizioni pubbliche in maniera sempre che io possa verificare e magari ragazzi fate anche arrivare a 50 like questo video sarebbe anche una bella soddisfazione mi piacerebbe che arrivasse a un minimo di 50 like non chiedo molto comunque sia ragazzi sapete tutti come fare lascerò anche il video tutorial in alto a destra su come rendere pubbliche le vostre condivisioni e le vostre iscrizioni quindi in maniera tale che non ci saranno problemi e ripeto al primo estratto andranno 50 mila crediti al secondo estratto ragazzi andranno 30 mila crediti al terzo estratto andranno 20 mila crediti quindi ragazzi dateci sotto commentate condividete i miei video fate girare i miei video aiutatemi a crescere nel canale ragazzi comunque cercherò di portare più contest possibile riguardo fifa anche se la stagione fifa sta finendo però poi ci rivediamo a settembre con molte cose nuove molte idee nuove che ho in testa quindi ragazzi rimanete connessi sul canale per chi comprerà il prossimo fifa ci saranno grandi sorprese sul canale quindi non muovetevi dal canale ragazzi assolutamente e nulla per questo video è tutto un saluto da maxi al prossimo video ciao a tutti